Erano 11 i deputati messinesi della scorsa legislatura, quella che ha lasciato il posto il 6 novembre ai nuovi eletti che ancora non si sono insediati. Di loro soltanto due sono rimasti al proprio posto, l'onorevole Valentina Zaffarana, eletta con i 5 stelle, e Bernardette Grasso, eletta grazie all'istino di Nello Musumeci. Tutti gli altri a casa, o per non essersi presentati, come nel caso di Giuseppe Panarello, PD, o per essere stati scartati dalle urne, come nel caso degli onorevoli candidati Ardizzone, Germana, Rinaldi, che ha rinunciato alla corsa in favore del figlio di Franco Antonio Genovese, Luigi, e poi Currenti, Picciolo, Greco e Laccoto, andranno a casa con un premio di consolazione circa 18 mila euro netti che rappresentano l'indennità di fine mandato, una mensilità dell'indennità di carica moltiplicata per gli anni trascorsi a Lars, una buon'uscita che tocca, badate bene anche ai rieletti, una buon'uscita che sarebbe stata molto più sostanziosa se tre anni fa la presidenza del Consiglio, targata Giovanni Ardizzone, non avesse recepito la legge Monti abbassando l'indennità da quasi 11 mila euro a circa 6.600 euro. Occorre tener conto che un deputato percepisce circa 8 mila euro netti, 6.600 euro lordi di indennità, 4.500 euro netti di diaria per il soggiorno palermitano. Diaria che, paradosso dei paradossi, tocca anche ai palermitani. A questi soldi si aggiungono altre piccole indennità che vanno al Presidente, circa 1.000 euro netti al mese o ai questori e ai segretari, molto di meno in questo caso. Ma per guadagnare questi soldi i deputati quanto devono sudare? E allora, sul sito dell'Assemblea regionale è possibile trovare ogni cosa? 99 sedute nel 2015, 91, nel 2016, 35, in questo scorcio del 2017. In tutto circa 225 sedute alle quali si aggiungono le commissioni. Se diamo un'occhiata al lavoro dei deputati messinesi negli ultimi tre anni, salta subito all'occhio che Nino Germana è quello che ha totalizzato più assenze, 109. Per lui risultano 9 congedi. C'è poi Bernardette Grasso, 36 assenze. Valentina Zafarana, che però ha portato avanti una gravidanza, 34 assenze. Carmelo Currenti, 39 assenze. Filippo Panarello, PD, tra i più virtuosi, solo 9 assenze. Tutti gli altri ci spiegano. Quelli a cui compaiono persino zero assenze sono difficilmente classificabili, in quanto in virtù del ruolo rivestito, capogruppo, presidente di commissione, vicepresidente o questore, hanno una sorta di presenza politica. Per ogni assenza, stabilisce il nuovo regolamento dell'Assemblea regionale, il deputato, se la seduta in questione riguarda votazione, di testi di legge o atti di indirizzo politico, può perdere sino all'1% dell'indennità. Ma l'assenza deve risultare ingiustificata, cioè non deve essere stato presentato nemmeno un certificato medico, ma quanto pare anche i deputati si ammalano.